Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Eliminare il divario di genere e consentire così il riconoscimento di un percorso professionale troppo spesso bloccato per le donne che intendono e possono ricoprire ruoli manageriali. È l'obiettivo del progetto Woman On Board 2023 che prevede l'attivazione dei corsi riservati alle professionisti abruzzesi e non solo. Ha aderito il Consiglio regionale e in particolare la Commissione Pari Opportunità. Questo è un corso di alta formazione a livello nazionale dove appunto hanno aderito 10 regioni tra cui l'Abruzzo e il nostro intento è quello di avere delle liste di donne qualificate, competenti e certificate perché è un corso con frequenza obbligatoria dove alla fine ci sarà un esame finale che appunto per eliminare il divario di genere che vi è in questi ambiti sia qualitativo che quantitativo. Si dice sempre che non vi sono donne competenti per poter accedere nei consigli di amministrazione ecco questa è un'opportunità che ci viene data per creare degli elenchi e quindi per aumentare il numero di donne competenti di cui già ne abbiamo tantissime anche nella regione Abruzzo. Quante possono partecipare? Allora inizialmente era stata prevista la partecipazione di mille donne in tutta Italia l'idea che in questi giorni si sta aumentando a 1600 perché appunto c'è stata un'enorme richiesta a livello nazionale quindi la piattaforma sta lavorando in tal senso ed è rivolto alle donne che hanno già una laurea magistrale sono iscritte a Federmanager o a Manageritale oppure hanno 10 anni di iscrizioni nei consigli degli ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti di lavoro quindi parliamo già di donne che hanno una loro competenza già a monte.